Salve ragazzoli, allora come promesso Se andiamo a fare queste due Quindi il deathmatch è l'eliminazione Speriamo che Vada tutto bene Farò cagare come al solito perché Stavo giocandoci ogni giorno perché Onestamente mi annoio Che lo faccio di più perché Per divertire, per farmi quella mezzoletta di riserva E così Non per altro Di più e per quello Solo per farmi quattro risate Tanto alla fine Ragazzi Se mi volevo mettere tipo Che ne so Fare il pro e tutto il resto Ci giocavo ogni giorno Almeno minimo due ore E gli elementi si notano Solo che Mi voglio far solamente quattro risate Almeno l'aeroporto Solo che Vi parlo del passato Penso che Non so, non mi ricordo se l'ho detto Lo porterò come tema principale Blablabla Ed era seguito Di più E lo faccio anche per quelle persone che A mano questo titolo Oltre a Oddio 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 Per un deadmatch E' E' un po' troppo enorme E' un po' di tira E' un po' di tira Ok Tanto so che ci pulirò Dove sono Oddio Oddio Mi sono saltando in aria Porca mattona No no In che stretto Ti Dai dove sono io Mi sto tiro il tendo no però è troppo enorme è troppo enorme sta sta mappa no ragazzi è troppo enorme questa mappa non è per cosa peraltro ma è enorme fai mai troppo enorme ma non ci posso fare nulla ragazzi perché ne ho uccisi due però non li scattavano gli altri eccolo eccolo vai ucciso che bello l'ho fottuto in qualche maniera filmico aspetta l'ho sentita questa parte ok ok ahhh Ah, probabilmente l'ho fatto il dan Dai, è tipo, è tipo un stand Pensavo di essere molto più scarso, però Dove sei? Ah, non l'ho visto, ah, perché? Eh, ora che so dove sei Guarda, ma col cavolo No, va bene, non l'ho trovato la testa Guarda, questo è un camper Perfetto No, però dai salta Inerfi Guarda 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 no dai no no dai cavolo questo di qua poi usa la campera di brutto dio miglio vabbè che sta a camperare c'è qualcosa? Grazie a tutti Dio Questo io non riesco proprio a vederlo Peccato Dai almeno quarto Penso che con le granate Potessi uccidere Dai tanto in 15 secondi che cazzo Devi uccidere se non ti muovi Dio mio Ma è stato divertente Ah io mi accontento anche del quarto posto Non è malaccio Cioè almeno io ho fatto la mia porca figura Dio buono Cioè non mi lamento neanche persone Cioè è stato abbondantemente divertente La mappa è troppo enorme secondo i miei gusti Cioè almeno per me è stato Per me è troppo enorme Non ci lo so fare niente Poi sono gusti no? Vediamo se Ecco una cassa comune Guardami Mi sono accontento Accontento O c'è il radio Non so se Ah si perché C'erano quelle che andavano in FK Guardate poi che partano Penso che l'audio non si dovrebbe sentire Forse Vabbè Vabbè Ah hanno cambiato un po' di cose Vabbè Avrei preferito la 74K Vabbè 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Peccato che non ho una bomba. Peccato. Sì. 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 No. Sbagliato! Devo prendere SPD. nooo 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 secondo me se la stanno campionando di brutto proprio nooo no l'hanno vinta loro non c'è niente da fare e almeno il mio lo ho fatto no 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 però hanno cambiato un casino anche le schermate tutto il resto andiamo a vedere cosa abbiamo guadagnato con le casse poi ci vediamo al prossimo video è diverso è diverso il mio ricordo più noioso tanto ragazzi che geloso dei come posso dire in qualsiasi fps ci saranno quelli che campereranno quindi c'è per me le sono fatte una ragione aspetta allora qua ci vuole un po' di tempo ancora c'è di questa arma qua ho sbloccato il progetto questo quale è meno quale è meno si ho delle armi ancora da sbloccare ah quale hanno ampliato con le nuove stagioni cioè secondo me lo fanno ancora più grande comunque ragazzi ehm e niente questo video termina qui ehm fatevi un po' vedere quei consumabili a quanto sono ok perfetto ehm che devo dirvi ragazzi quindi aspetta mi scrivo anche qualche no ho sbagliato no no ti volevo fabbricare a te eh fusili d'assalto eh si poi ehm munizioni ah vero perchè già stiamo producendo altre cose comunque ragazzi lasciatemi mi piace commentate iscrivetevi al canale fatemi sapere come mi piace se in futuro vorresti avere un mix fra che ne so due di queste due qui e una di questa e questa o tipo due di queste o un dead match l'eliminazione o quindi si andrebbe a giocare in con un almeno un'ora di video più o meno circa quindi ragazzi lasciatemi lasciatemi mi piace commentate iscrivetevi al canale fatemi sapere la vostra preferenza come volete vedere questo tipo questo tipo di video almeno io devo dire che mi sono divertito un casino anche se non ho fatto chissà che cosa però è stato divertente ma ammetto che è stato divertente quindi alla prossima pelle